Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni parla di ingerenze del PD tese a un obiettivo delle intese anti-italiane, quindi il PD tesse intese anti-italiane. Andiamo a vedere se è vero. E così la Premier dice che bisogna fuggire dal gioco delle ingerenze, non cercare al di là dei confini complici che ti aiutino a combattere il tuo livale interno, erodendo così la sovranità popolare. E così la Premier da Washington, al termine del vertice Nato, spiega di non voler entrare nella partita americana delle elezioni, perché le chiedono per chi voterebbe, per l'uno, per l'altro, ma al governo italiano non importa e non deve importare chi vince, perché chiunque vinca sarà uguale, nel senso uguale perché l'Italia dovrà avere i suoi rapporti diplomatici con gli Stati Uniti, indipendentemente che vinca uno o che vinca l'altro. E il PD puntava sul Presidente Democratico per isolare il governo italiano. Il PD ingenuamente pensava che con un Presidente e non con l'altro il governo italiano sarebbe stato isolato, non capendo che la politica internazionale non funziona così. I rapporti tra gli Stati e i Paesi sono indipendenti da chi è in quel momento il Presidente o il Capo del governo se è di una parte o dall'altra. Però il PD contava sul Presidente Democratico per isolare il governo italiano e gli è andata male. E Meloni racconta di averlo visto bene, questo atteggiamento e questa speranza, proprio negli scorsi giorni. E così la risposta della Premier dice Io sono stata vittima delle ingerenze straniere nei miei affari interni, quindi non faccio ingerenza negli affari interni degli altri. A maggior ragione nei confronti di un Paese con cui la collaborazione è molto stretta. E aggiunge la Premier, l'Italia e gli Stati Uniti hanno rapporti estremamente solidi e che non sono mai cambiati nonostante il mutare dei governi. Quello che vi dicevo prima. E i rapporti tra i Paesi, soprattutto tra questi due, Italia e Stati Uniti, è indipendente dal fatto che ci sia uno o l'altro che vinca le elezioni uno o l'altro. Chiunque dovesse essere il presidente, dice la Meloni, noi continueremo a lavorare bene con gli Stati Uniti. Non è solo una questione di rispetto, pesa anche l'esperienza. La Premier dice che ci sono ingerenze di come in campagna elettorale c'erano leader stranieri che spiegavano che se avessimo vinto noi le elezioni avrebbero vigilato sul nostro Stato di diritto. Erano i francesi, vi ricordate? E l'intervento esterno è solo una parte del problema, perché poi nella sinistra italiana c'è chi quell'intervento lo sollecita. Quindi non solo le ingerenze arrivano in modo gratuito da alcuni Paesi, ma sono anche invocate da alcuni partiti italiani. E dice la Meloni, i leader italiani che in campagna elettorale sono andati a trovare leader stranieri per far dire che dovevano essere votati loro dai cittadini italiani, io penso che decidano gli italiani chi votare in Italia, esattamente come penso che chi debba vincere le elezioni degli Stati Uniti lo decidano i cittadini degli Stati Uniti. E questo discorso era inviato al Partito Democratico, perché in questi giorni proprio si è indirizzata la politica estera dei partiti di sinistra proprio nel tentare di convincere Paesi e politici europei a isolare Giorgia Meloni. Ma il fatto dell'uscita di Vox dai conservatori, Salvini che si è unito a questi patrioti per l'Europa, ha fatto togliere dal partito conservatore ECR, di cui la Meloni è a capo, delle frange, chiamiamole estremiste. E preoccupa, dicevano, per esempio diceva Bonaccini del PD, preoccupa l'irrilevanza a cui Meloni ha ridotto l'Italia nel confronto sui nuovi assetti della commissione. Ma, di che ne dicano, nel PD il dialogo tra Meloni e von der Leyen continua e aggiunge la Premier, come Presidente del Consiglio il mio unico obiettivo è portare a casa per l'Italia il massimo risultato possibile. E come Presidente dei conservatori europei dice dialogheremo con le altre delegazioni e decideremo cosa fare. Però, dice, io sono concentrata soprattutto su quello che all'Italia deve essere riconosciuto in ragione del suo peso, una commissione europea con una delega importante e una vicepresidenza, incarico che sarebbe destinato a Raffaele Fitto. E così si ribadisce che su von der Leyen al momento il giudizio è negativo, non abbiamo nulla contro di lei ma abbiamo molto contro la piattaforma politica degli ultimi cinque anni. e le trattative proseguono. Ecco, a questo punto si vedrà che cosa succederà perché ci sono i franchi tiratori che sono molti, il soccorso degli altri gruppi che sarà indispensabile, i voti che arrivano a 401 e alla Presidente uscente ne bastano 361 per fare il bis. Adesso, giovedì 18 luglio, l'Aula voterà per la riconferma della von der Leyen a scrutinio segreto. Io vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Ricordatevi che poi c'è anche Teleitalia Seconda Rete dove trovate video di politica, di notizie, poi questi video sono condivisi sulle varie piattaforme social. Grazie e buona giornata. Arrivederci a presto.